dai Leo cotta, vai cotta, dai, dai cotta. io credo supporto qui, mi sentiremo il suo atto qua. mi sembra che ho fissato qui, è 5 euro per alta, si è che mi basta. dai tu … ... si è visto dove… si è visto dov'è trovare … si ma è proprio… Non è male che stavano a dire niente. No, perché se vuoi lasciare, se vuoi vedere, non vuoi che proviamo un altro. No, lascio, lascio. No, no, se vuoi vedere, se vuoi vedere il frigetto è un infarto, non sto parlando. No, se lascia col topia, lascia, col topia. Ma che fatti col topo a Leo? Ancora, anche dopo sono solo 5 euro, eh. E' già stancho così, va. Ah, che sì, mi paga mia, ti guarda, basta, ti ehi. Mi dà di saccarmi qui. Un po' uno, un po' l'altro. Ma non gli vado un po' l'altro? A 15 euro a testa? A quanti cì? A quanti cì? A 10, 10, 10, quanti cì? Sì. 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 E' che lei saperebbe che... Sì, ma perché lei sapasse, capito? E' che lei è atto, è incardino, capito? Sì. 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 Sì.